Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata della rubrica Experienzia. Oggi incontriamo una giovane cantante e attrice, Elisa Mammoliti. Buongiorno Elisa e benvenuta. Ciao, grazie per avermi invitata. Grazie a te per essere qui con noi. Elisa, hai voglia di presentarti brevemente, di raccontarci chi sei, che cosa fai? Sì, allora io ho 27 anni e sono nata e cresciuta qui ad Aosta e ho sempre avuto una grande passione per la musica e per il canto. Infatti ho iniziato da piccolissima a suonare il pianoforte e a frequentare diverse scuole di canto qui ad Aosta. Infatti avevo frequentato la Sfom e dopo il liceo avevo questa voglia di partire e andare a studiare musical, però insomma non ero comunque pronta per affrontare le audizioni e tutto quanto e quindi sono andata a Milano per studiare economia. Dici questo, come nasce in te la passione per il musical? Da dove arriva e quando arriva nella tua vita? Ma allora penso che sia stata la mia insegnante di pianoforte, un po' Agnese di Trani si chiama. Lei organizzava dei musical con la scuola San Francesco qui ad Aosta, proprio con gli alunni della scuola e allora un anno mi ha detto ma se tu canti perché non vieni a cantare un pezzo nel nostro musical? e quindi quello è stato il mio primo incontro con il musical diciamo e sono rimasta folgorata e poi mi ha portato anche a vedere La Bella e la Bestia quando era a Milano al Teatro Nazionale e sempre nei primi anni del liceo. Quindi penso che sia nata così. Quindi una passione che nasce, come dire, nella tua giovinezza e ci raccontavi poi a un certo punto che cosa succede nella tua vita? Non ti senti pronta ancora per affacciarti in questo mondo e quindi? Sì, diciamo che non avevo molto neanche un'idea di come funzionasse. Cioè io ho finito il liceo a giugno, luglio, cos'era? E dico sì, parto, vado a Londra. In realtà le audizioni vanno fatte un anno prima, ad esempio. Quindi vabbè, ho un po' ripiegato su economia per arte, cultura e comunicazione, quindi comunque sempre in ambito artistico. E poi è stata una bellissima esperienza, la mia esperienza universitaria. Insomma non avrei fatto niente altro, in realtà sono stata molto contenta. E nel frattempo ho avuto occasione appunto di prepararmi per queste famose audizioni per entrare in un'accademia. Infatti facevo diversi corsi di canto, danza, recitazione, un po' ovunque a Milano. E poi l'ultimo anno di università ho iniziato da subito, dall'inizio dell'anno, a andare a Londra a fare delle audizioni. E ti interrompo ancora per chiederti il tuo percorso universitario. Tu dici non avrei potuto fare altro. Ti ha insegnato qualcosa, come dire, di così trasversale da poter essere applicato in quella che vorresti fosse e che noi ti auguriamo sarà la tua carriera? Sì, sicuramente sì, mi ha insegnato tanto. Perché innanzitutto mi ha permesso di conoscere tante persone diverse. Perché poi in realtà in accademia penso che sia un po' più complicato fare amicizia, perché c'è molta competizione. Mentre invece in ambito universitario sì, ok, un po' di competizione magari ci sta, però in realtà è più lo studiare insieme, e fare questo percorso insieme. Quindi sono molto contenta per le amicizie che ho coltivato in quegli anni. E poi, vabbè, mi ha dato modo di trovare, diciamo, il coraggio e la determinazione di affrontare ogni tipo di ostacolo. Comunque la mia università infatti mi fa molto ridere perché alla fine quando fanno dei sondaggi, alla fine del tuo percorso, una delle domande sera, il percorso universitario ti ha insegnato a gestire lo stress. Ed effettivamente è così, perché loro ti mettono sotto stress proprio un po' appositamente per vedere come te la cavi, come riesci a gestirla. Beh, questa è una grandissima competenza che decisamente serve poi in tutti gli ambiti della vita, qualunque cosa si faccia nella vita. Quindi sì, mi sembra un grande insegnamento da parte dell'università. Eravamo però alle audizioni. Sì, allora andavo a Londra a fare queste audizioni, un po' così, un po' a caso. Anche la mia scelta su quale accademia non è che fosse particolarmente pesata. Insomma, io volevo un'accademia di un anno, perché di solito le accademie sono di tre anni, però gli inglesi iniziano a 16 anni a fare le accademie e io ne avevo già 21. Quindi, insomma, non volevo fare tre anni, perché volevo subito buttarmi nel mondo del lavoro. E quindi la mia scelta è stata presa in questo modo. E quindi niente, poi proprio a maggio, quindi a fine anno, mi hanno comunicato che ero stata ammessa all'Italia Conti. Quindi contentissima. Un po' di malinconia lasciare Milano, chiaramente. e quindi sono partita. È stato un anno molto intenso. Bello, bello. Sì, l'unica cosa appunto che in questa accademia, questo anno, che doveva essere un anno di specializzazione, in realtà era un anno un po' parificato al primo anno di accademia. Infatti poi dopo tutto il percorso loro spingevano molto perché uno continuasse con altri due anni. Non ti davano occasione di metterti nel mondo del lavoro, di conoscere degli agenti. E quindi non mi sentivo preparata assolutamente. Allora ho deciso di fare altre audizioni durante il primo anno e sono entrata poi alla London School of Musical Theatre, che è veramente invece una scuola di specializzazione. Ed eravamo soltanto appunto 27 studenti. Aspita, 27 studenti. Quindi una formazione anche molto approfondita. Ecco, questo tuo percorso di formazione, che tra l'altro è stato un percorso fatto molto distante da casa, fatto in un altro paese, in un'altra lingua. Ecco, tutto questo che cosa ti ha insegnato? Allora, mi ha insegnato che io pensavo di andare a Londra e trovare un'altra Milano. Cioè pensavo che sicuramente farò un sacco di amicizie, sarà tutto facilissimo. In realtà Londra è molto molto diversa da Milano da questo punto di vista. Poi ero l'unica straniera delle due accademie. Cioè c'erano due altre ragazze italiane nella prima, però facevano un altro corso, quindi non erano con me quasi mai. E quindi c'è stato un po' questo shock culturale anche da un certo punto di vista. E quindi mi ha insegnato a cavarmela da sola. Insomma, non è che se salta la luce puoi chiamare la mamma e dire cosa faccio. Mia mamma fa sempre questo esempio, perché effettivamente quando succede qualcosa in casa e lei non c'è. Ma cosa devo fare? Mi sembra molto molto calzante in effetti. E quindi sì. E poi insomma abituarsi a viaggiare tanto, perché poi negli ultimi anni dopo l'accademia ho fatto molto avanti e indietro tra l'Italia e Londra, perché facevo audizioni sia in Italia che in Inghilterra. E quindi sì, gestire lo stress sicuramente. E lì hanno cominciato a tornare buoni gli insegnamenti universitari. E poi, concluso questo percorso di formazione, che cosa è successo? Allora, ho avuto, diciamo, molta fortuna perché ho trovato lavoro subito. E infatti una delle prime audizioni che ho fatto in Italia sono stata presa al Teatro Nuovo di Milano per lo spettacolo Cinderella. È stata un'esperienza meravigliosa, però diciamo che mi ero un po' convinta che fosse tutto facile, no? Perché finisci l'accademia, fai un'audizione, trovi lavoro, dico vabbè allora non è così difficile come te la raccontano. Ormai è fatta. Che anno era? Era 2017. Dunque prima della pandemia. Sì, sì, sì. E poi invece i primi mesi del 2018 sono stati molto duri perché pensavo che ci fosse un lavoro dopo l'altro, così molto semplicemente. In realtà ti rendi conto innanzitutto che a gennaio audizioni ce ne sono molto poche. E quindi, insomma, è stato un po' complicato. Però tu mi raccontavi, quando abbiamo fissato questa intervista, mi raccontavi che non ti sei decisamente persa d'animo e hai continuato il tuo percorso. Quindi, insomma, raccontaci. Sì, sì. Ho continuato con le audizioni in Perterre, in Italia, in Inghilterra, ovunque. E quell'estate è capitata una cosa molto bella perché ho fatto questa tournée in cui eravamo solo due ragazze a fare tutti insieme appassionatamente. Che in realtà è uno spettacolo pieno di persone perché ci sono i bambini, un sacco di personaggi. E io facevo Maria, il personaggio principale, e lei faceva tutti gli altri personaggi. Abbiamo viaggiato in macchina con tutte le nostre attrezzature nel bagagliaio e montavamo e smontavamo il palco. Siamo andate in piccoli teatri, scuole, case di riposo, ovunque. È stata una bellissima esperienza. Eh, lo immagino. Lo immagino. Un'esperienza di lavoro che però, insomma, contiene in sé un gradiente formativo notevole, no? Anche lì mi immagino che tu abbia imparato molto. Sì, poi, beh, sono stata affortunata perché la mia compagna è diventata una mia grande amica e siamo andate subito molto d'accordo. Quindi questo è fondamentale, insomma, un po' di coesione fra gli attori e i compagni di viaggio, in questo caso. E sì, è stata anche un'occasione per vedere diverse parti dell'Inghilterra, che non conoscevo, perché io sono sempre stata a Londra. E quindi è stato bello anche per questo. Siamo andate fino a Nottingham, Exeter, un po' ovunque. E poi quali altre esperienze hai fatto in questo ambito? E poi, dopodiché, nel 2018, beh, ho avuto un lavoro per un'altra compagnia italiana, la All Crazy, e abbiamo fatto degli spettacoli per famiglie in teatri a Milano e nei rintorni di Milano. E quindi sempre un po' in Italia e un po' in Inghilterra. Ho fatto alcuni cortometraggi e video corporate per le aziende in Inghilterra, Oxford. E poi, nel 2019, avevo deciso di tornare in Italia, perché alla fine mi rendevo conto che avevo più occasioni lavorative qui rispetto che a Londra, paradossalmente, però, insomma, così è stato. E quindi sono tornata in Italia e ho detto, vado comunque a fare le audizioni che ci sono da fare su. E per un po' di tempo poi è andata così. Ho iniziato a lavorare per una compagnia di Rimini, con due spettacoli, uno patto di luce e senza fili. E tra l'altro facevo il personaggio principale di patto di luce, che non mi era mai capitato, quindi è stato fantastico. E dovevamo partire in tournée nel 2020. Quindi, insomma, abbiamo fatto qualche data e abbiamo fatto l'ultima data, proprio l'ultimo giorno di apertura dei teatri, che è stato il 21 febbraio del 2020. E, insomma... Eh, diciamo che se questo è stato un anno duro per tutti i professionisti, lo è stato in particolare per i professionisti dell'arte e dello spettacolo. Com'è stato il tuo 2020? Allora, da una parte sono ben consapevole che tutti gli artisti debbano in qualche modo rinventarsi sempre, perché non è mai un, appunto, un continuo di lavoro uno dopo l'altro. Quindi bisogna sempre avere qualcos'altro, tendenzialmente, da fare. E infatti io insegnavo inglese e ho approfondito questa parte della mia vita e ho iniziato a insegnare per una scuola online, per adulti che imparano l'inglese per il loro lavoro. E da una parte comunque sono riuscita a unire un po' le due cose, perché faccio anche dei webinar in cui insegno l'inglese con le canzoni. Quindi un bellissimo... Un pochino di lato artistico c'è anche in questo. E poi, siccome comunque mi mancava tanto cantare, eccetera, ho iniziato a lavorare un po' su internet, facevo dei video su YouTube così, e poi ho scoperto questa piattaforma che mi permette di mettermi in contatto con altri artisti, che siano produttori, compositori, eccetera, e loro mi commissionano delle canzoni o dei video. E quindi posso fare da casa quello che avrei fatto magari su un palco. E quindi questo mi ha molto rallegrato e rassicurato durante il lockdown specialmente. Beh, sei stata molto molto intraprendente, no? Sei stata molto in gamba a trovare delle modalità alternative per continuare a coltivare la tua passione e per farla diventare una professione a tutti gli effetti. Quindi sei stata molto brava. Grazie. Ma sì, insomma, è che quando ti manca tanto qualcosa cerchi in tutti i modi di farlo. Cerchi degli escamotage o qualsiasi cosa. Certamente. E adesso i tuoi progetti per il futuro quali sono? Quali impegni hai? Ma allora, comunque in questo 2020-2021 sono stata molto di più qua da Osta e non ero qua da Osta da quando avevo 18 anni. E questo mi ha permesso di scoprire un po' l'ambiente artistico qui. Ho, diciamo, cominciato a collaborare con un compositore che si chiama Massimo Bombino che tra l'altro avevo conosciuto dieci anni fa quando avevo frequentato il CET di Mogol. Ci eravamo completamente persi di vista. Poi per un progetto comune che avevamo fatto la scorsa estate ci siamo rincontrati ed è stato molto bello perché abbiamo fatto alcune serate tra cui qui alla Cittadella ti regalo una musica con lui e altri musicisti. Ieri abbiamo registrato Bon Soire per la RAI. E quindi, insomma, posso comunque ritenermi felice di essere rimasta qua e di aver conosciuto un po' più l'ambito artistico valdostano. E progetti futuri? Beh, spero sempre di continuare a suonare con loro, se capiterà l'occasione. E spero anche di riprendere quella famosa tournée che era stata annullata nel 2019. Certamente, te lo auguriamo. Mi dicevi però che ti sei avvicinata anche, ultimamente ti sei avvicinata anche alla recitazione cinematografica. Anzi, ne approfitto per dire che Lisa Mammoliti sarà tra le attrici che compariranno nella sitcom che ben presto Cittadella realizzerà, insomma, progetto sul quale vi terremo aggiornati quando sarà il momento. Ecco, mi raccontavi che nasce a un certo punto è nata per te anche una passione nei confronti della recitazione cinematografica. Assolutamente sì, ma in realtà già dai tempi dell'accademia, ovviamente noi facevamo musical, quindi era tutto recitazione teatrale, canto e danza, però ogni tanto veniva qualche ospite a fare delle lezioni di recitazione per telecamera e mi ha affascinato fin dall'inizio proprio e anzi forse quasi addirittura la preferisco rispetto alla recitazione teatrale. Poi vabbè, il musical è un'altra cosa perché include anche il canto, eccetera, però la recitazione cinematografica mi piace molto questo fattore di realtà, di verità che c'è dietro e quindi quest'anno comunque i set cinematografici pubblicitari sono rimasti abbastanza aperti rispetto ai teatri e quindi ho cercato di lavorare un po' più in quell'ambito, ho fatto una serie web a Milano a settembre-ottobre e poi in realtà nel 2019, prima di partire in tournée, avevo seguito una masterclass con Piavati, che era stata bellissima e quindi sì, mi sono molto appassionata di recitazione cinematografica. Quindi spero che prenda piede questo progetto, quella cittadella. Lo speriamo decisamente. Senti, un'ultima domanda per te Elisa. Se dovessi dare dei consigli a un giovane o a una giovane che vuole affacciarsi in questo ambito, facendolo diventare il suo mestiere, la sua professione, la sua attività lavorativa, che cosa diresti? Ma allora direi di lavorare tanto e prepararsi molto e continuare a studiare perché non si smette mai di studiare. Cioè io continuo a studiare sempre, canto. Adesso sto facendo canto lirico. È molto importante perché, non so come dire, la fama può essere una cosa così sporadica, però il talento coltivato è una cosa che ti rimane sempre e quindi nonostante tutto, insomma. Quindi ti senti anche a posto con te stesso e hai qualcosa da dare. Certo, decisamente. Come diceva Eduardo, gli esami non finiscono mai. Esatto. Bene Elisa, io ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo, ti ringrazio per il tuo racconto e allora ci vediamo presto sugli schermi di Cittadella con il progetto della Sitcom. Certo, grazie mille a voi. Un grande in bocca al lupo intanto. Crepi il lupo. Ciao. Ciao. Certo. Certo. Certo, ok. Quindi buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Experienzia e poi le faccio la prima domanda e lei inizia a rispondere o no? Le risponde e poi per sicurezza le risponde e poi le risponde. D'accordo, va bene. Quindi è parte di chi sai cosa fai, bene o male. Esatto. Ok. D'accordo. Dimmi tu quando, Sancho. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata della rubrica Experienzia. Oggi incontriamo una giovane cantante e attrice, Elisa Mammoliti. Buongiorno Elisa e benvenuta. Ciao, grazie per avermi invitata. Grazie a te per essere qui con noi. Elisa, hai voglia di presentarti brevemente, di raccontarci chi sei, che cosa fai? Sì, allora io ho 27 anni e sono nata e cresciuta qui ad Aosta e ho sempre avuto una grande passione per la musica e per il canto, infatti ho iniziato da piccolissima a suonare il pianoforte e a frequentare diverse scuole di canto qui ad Aosta, infatti ho frequentato la Sfom e poi a un certo punto mi sono molto appassionata di musical e che rimane tuttora la mia più grande passione e dopo la scuola, dopo il liceo avrei voluto subito partire per andare a fare un'accademia di musical in Inghilterra. Poi mi sono resa conto comunque di non essere pronta per affrontare le audizioni e tutto quanto, quindi sono andata in realtà a studiare economia a Milano e però ho colto l'occasione di questi tre anni di università per prepararmi appunto per le audizioni, studiavo canto, recitazione, danza in diverse scuole e poi... Direi che va bene, no Sancio? Ok, ok, perfetto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.